ciao a tutti i nostri telespettatori di cilento channel mi trovo in casa quindi chiedo scusa insomma per la scenografia non proprio televisiva volevo spiegare un po a tutti voi come funziona la smart tv tanti ci hanno chiesto come fare per sintonizzare in un certo senso il nostro canale attraverso il televisore quindi in tutto il mondo e ve lo spiego subito allora questo è un televisore come vedete mi sposto nella parte posteriore chiedo scusa per il disordine e come vedete qui c'è il collegamento vedete la spinetta della rete internet e dunque significa che il televisore è uno smart tv andiamo sul telecomando schiacciando sull'icona casetta ecco che entrate nei dettagli della smart tv andate avanti come vedete nel cercare il browser ovvero il programma che vi permette di navigare su internet attraverso il televisore e come vedete nel nostro caso il programma di navigazione si chiama t browser schiacciate su ok col telecomando e come vedete ecco vi ritrovate sul browser di navigazione spostando la freccia vedete la freccia di navigazione e dunque portato il cursore proprio qui nella sezione indirizzi andate poi a cliccare per far apparire la tastiera scrivete naturalmente sempre col navigatore vedete cilento channel quindi una volta scritto cilento cilento channel.it date l'ok e vi ritroverete appunto il nostro indirizzo sulla sullo spazio appunto degli indirizzi andate poi a cliccare sull'avvio quindi sulla ricerca ed ecco che parte la ricerca del sito si carica la pagina naturalmente aspettiamo il caricamento ecco vedete il sito si è caricato ora spostiamo il cursore su guarda la diretta vedete facciamo clic ok e apparirà la nostra diretta televisiva di cilento channel come vedete è molto semplice per cui vi invito a fare questo video tutorial nelle vostre case per trovare il nostro canale grazie a tutti per averci seguito l'appuntamento rinnovato a una prossima occasione tutorial cilento channel